madonna come è lento sto coso e madonna come sono pelato ragazzi volevo fare questo video blog da dentro la tenda da dentro il campeggio da dentro cetumal da dentro il messico perché questo è il primo campeggio dove ho la presa della corrente accanto alla tenda e anche il wifi che mi arriva sicché buongiorno oggi è domenica ho finito di scrivere i blog ho finito di fare i video ho finito di mandarvi le newsletter sono svegliato ora è domenica dormo in un camping si vede dormo qui guarda riuscite a vedere qualcosa? c'è il mare lì a due passi e che mare questa è la tenda vi invito venite venite si piglia si piglia un caffèino insieme non c'entro nemmeno madonna e qui ne nulla volevo solo fare sta cosa non c'avevo neanche niente da dire che vi racconto vediamo ah sì no no non c'ho nulla no e volevo raccontare che c'avevo una mappa avevo preso una mappa e vado se il tempo è buono vado a Tulum a vedere le rovine maia in spiaggia e poi dopo taglio verso Ikele verso ovest per vedere se arrivo vicino a Chiapa c'ho da fare fra mille chilometri tagliato alla moto per cui dovrò cercare un posto tranquillo le gomme pensavo di cambiarle durante il prossimo tagliando però a parte le varie furature che ho fatto e che ho avuto c'hanno ancora un po di chilometri da macinare io direi che quella dietro c'ha perlomeno 2000 3000 e quella davanti c'ha perlomeno 6000 a fare che si aspetterà non so questo video come verrà fuori non so si vede non so se si sente non so niente ah mi rimetto a sedere vai che volevo dire mi si è appannato ogni pen di dio però con le mutande non posso farlo che altro non c'ho più argomenti ho parlato di tutto ieri sono stato tutto il giorno tutto il giorno davanti al computer a scrivere tutti i blog a fare video tutto il giorno che lavoro per voi per tenervi aggiornati che altro boh ce n'è tanto da dire non so che dire ragazzi mi sono svegliato ora non vuole che vi dico dimmi qualcosa a voi si 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 vabbè basta dai già diventavo uno io su questo video non c'ho che non era a dire ciao